ciao a tutte benvenute in un mio nuovo video oggi un video misto acquisti regali insomma un po di tutto prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere supportandomi lasciandomi qualche like commentate attivate anche la campanella per ricevere le notifiche se le avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video e se vi fa piacere seguitemi su instagram e su tic toc questo è il nome dei miei due profili ora però iniziamo subito allora innanzitutto questo il mio primo video del nuovo anno perché gli altri video che avete visto li ho registrati a casa quindi sono ritornata al lavoro ci tenevo a augurare a tutti voi che se gli auguri ve li ho già fatti un buon inizio sperando che quest'anno sia migliore dell'anno che abbiamo trascorso per quanto rispetto alle cose che sono accadute a tante persone io non mi ritengo sfortunata insomma non mi voglio lamentare dell'anno che è passato spero che comunque sia a livello lavorativo che a livello di salute insomma di tutto il 2022 il 2022 ci porti bene e niente io direi di iniziare subito le cose che vi voglio mostrare oggi sono diverse ho fatto un altro acquisto nel sito di unica unica accessori quando io mi trovo bene in un sito o comunque in un negozio sono propensa a fare i miei acquisti spesso purtroppo ho fatto tante spedizioni diverse perché ogni volta che poi mi faccio spedire il pacco mi piace qualcosa le cose che ho acquistato questa volta sono poche però mi piacciono tantissimo iniziamo da nuvola questa è nuvola la piccolina la mini mi sembra che si chiami nuvola mini la fanno in diverse colorazioni ovviamente personalizzata per me ho voluto scegliere questo colore per mia figlia il lilla chiaro sempre con la sua iniziale ve la mostrerei in uno dei suoi video questa pochettina mi piace tantissimo mi piace anche la grande però questa qui ho la possibilità di sfruttarla di più perché rimane più piccolina quindi da mettere un po in tutte le borse rimane in spugna il costo non mi ricordo se di 12 euro di 14 euro forse 14 alla cerniera io la sto utilizzando ora per mettere la mia insta 360 go 2 ovviamente posso utilizzarla per mettere il make up per mettere altro comunque all'interno è foderata nera quindi qualora uno volesse mettere i prodotti make up è anche una cosa positiva per evitare di andare ad ombreggiarla per lo meno io le pochette le rovino tutte quindi questa all'interno è nera e io all'interno ho messo il dispositivo gli accessori che mi interessano di più dell'insta 360 go 2 quindi la collana col magnete il cavetto di ricarica adesso sto ricaricando le cuffie altrimenti c'è anche il caricatore che poi mi serve per attaccarla la presa e all'interno di quest'altra bustina o l'insta l'ho voluta riguardare così perché devo ordinare la cover in silicone non ho ancora controllato perché non ho avuto tempo e quindi non voglio che si graffi con i cavetti e altro una volta che se riesco a trovare appunto la cover non utilizzerò quella bustina ma terrò le cose proprio all'interno senza senza nient'altro quindi questi sono i miei primi due acquisti che ho fatto da unica accessori il secondo acquisto lo indosso è la catenina vi lascerò magari delle immagini dove ve la faccio vedere nel dettaglio anche questa è in acciaio io mi sto trovando benissimo con questi accessori di unica che veramente sto tenendo fissi da tantissimo tempo doccia bagno vi ho detto li tolgo solamente quando faccio il colore non lascio niente non lascio gli orecchini a prescindere dal marchio a prescindere se sono in oro se sono in argento non lascio niente tolgo anche le fedi proprio per evitare di macchiare e niente quindi io mi sento veramente di consigliarli per un motivo che costano poco quindi ci possiamo levare tanti sfizi non è un video collaborazione quindi a parte che io sono sicera anche se collaboro non propongo delle cose che a parer mio non convengono o comunque che sono scadenti ovviamente sono braccialetti che costano poco quindi potrebbe capitare inadvertitamente di romperli io vi dico li sto tenendo fissi da parecchio tempo e lo vedete nei miei video outfit anche se non li faccio gli accessori li mostro sempre e sono come nuovi quindi sinceramente ho voluto prendere anche la collana ovviamente non ho deciso di eliminare la collanina che ho utilizzato per la piastrina che mi hanno regalato i miei figli perché vi ho detto che la vorrei tenere fissa e quindi l'ho voluta mettere sotto la maglia la piastrina di pandora è questa quindi l'ho sotto perché questo è un collo che rimane a lupetto questa è la maglia di decathlon dopo ve la farò vedere meglio nell'outfit e niente quindi questa è la collanina la collana non mi ricordo sì forse si aveva la catenella dietro che io ovviamente ho eliminato stavo facendo memoria per non dirvi fesserie aveva la catenella dietro e io l'ho voluta eliminare sì avrei potuto avere delle regolazioni ma a me non piacciono quelle parti pendenti altra cosa che ho acquistato da unica purtroppo mi sono dimenticata di portarla qui vi metterò qua la foto è un maglioncino morbidissimo che riprende il colore di questa pochettina qui poco poco più scuro l'ho preso in promozione perché mi sembra che fosse l'ultimo capo poi non so se verranno riportati o meno mi sembra di averlo preso in promozione e l'ho già indossato infatti ho deciso oggi di fare un video diciamo un po misto altrimenti mi dimentico di farvi vedere le cose quindi ho preso quel maglioncino e in omaggio mi ha mandato un orsetto decorazione natalizia che vi mostro qua graditissimo perché io amo gli orsetti quindi stupendo e poi mi ha mandato una collanina teddy col teddy piccolo che mi piaceva tantissimo però piaceva anche a mia figlia quindi ho voluto regalarla a lei e la tiene su fissa deciso di tenerla fissa come tengo fissa la mia e ha appeso due ciondolini uno che gli ho regalato e la f che gli era stata regalata quindi sono contentissima vi metterò comunque la foto della collana teddy qua al lato e niente questo è stato il mio ultimo acquisto ultimo ultimo di quello che ho fatto perché comunque non sarà l'ultimo ormai mi trovo molto bene con questa azienda un'azienda che comunque è attenta nei dettagli purtroppo vi metterò magari delle foto perché questa volta non sono riuscita a resistere ho aperto subito il pacco utilizzato tutto però ha sempre mandato tutto nelle bustine sue con il suo adesivo sempre messe bene con la carta velina quindi la spedizione l'ha sempre curata nel minimo dettaglio per me è una garanzia quindi io la straconsiglio non è un video collaborazione però ritengo che da loro siate togliere degli sfizi veramente con poco fanno molte cose personalizzate ho già pensato e adocchiato alcune cose sto cercando di trattenermi perché comunque anche se la spedizione devo dire la verità non l'ho mai pagata perché ho sempre superato i 29 euro quindi ripeto sono contenta del dell'insieme del trattamento molto veloci nelle spedizioni quindi alice io ti ringrazio ancora e passo a dei piccoli regali che mi sono stati fatti e delle cose che invece ho acquistato io allora da zara sono stata a cagliari siamo andati domenica che non mi ricordo più il 2 mi sembra si siamo andati domenica 2 a cagliari e per farci un giro fare qualcosa di diverso e abbiamo comprato solo tre cose da zara due non ve le mostro perché sono di mia figlia e le mostrerà lei io vi mostro quello che ho acquistato io ovviamente non in promozione perché nuova collezione presumo allora mi cambio gli occhiali perché non vedo benissimo allora ho voluto prendere questa che io voglio mettere con i leggings penso che sia classificata come vestitino perché mi sembra che nello scontrino comunque io amo tutto quello che è denim quando vedo qualcosa in jeans che mi piace non me la lascio scappare anche se non è in saldo l'ho pagato 39 e 95 io l'ho preso come camicione ma quanto pare un vestito che ovviamente non metto senza niente sotto per me il capo in jeans non ha stagione quindi che sia più leggero che sia più pesante io lo porto tutto l'anno quindi un qualcosa in jeans acquistato è veramente per me un passepartout questo è il vestitino ho voluto prendere la l ho provato anche la m mi stava però ha un elastico in vita è un conto avere qualcosa nell'armadio che ti sta un po giusto te ne infischi e lo indossi comunque ho deciso di comprarmi cose comode quindi ho voluto prendere la l viene fatta anche l'xl sono dalla xs alla xl se volete poi il codice potete fare una foto ha i bottoni automatici due taschine aspettate che vedo se riesco a mostrarvela meglio vedete a questo elastico in vita e la lunghezza è questa quindi è corto per me non è un vestitino magari l'avrei potuto usare come vestitino da ragazzina non adesso anche se fossi stata più più magra comunque mi piace tantissimo ai polsini sempre con l'automatico come jeans è un jeans morbido non mi sembra non rimane elasticizzato a parte l'elastico che ha in vita è comodo confortevole ma non elasticizzato vedo non vi assicuro niente se riesco dopo a mettermelo sopra e a mostrarvelo se riesco vi lascerò qua l'immagine vedo se togliendo la giacca riesco a farvi capire com'è comunque lo straconsiglio non è economico senz'altro se ne possono trovare di più economici però indossato fa la differenza ecco alla manica raglan quindi non ha un giro manica normale ma è una manica scesa quindi la m la l a me non avrebbe fatto la differenza io le spalle strette però qui il giro manica non è quello regolare è per quello che ho optato per prendere una taglia più comoda date zenith ho voluto prendere per 5 euro e 99 non c'erano sconti queste calze mi piace tantissimo il colore taglia unica e sono calze termiche io non utilizzo molto le calze però queste le ho pensate ho tante cose di questa tonalità qui mi piaceva tantissimo al tatto questa calza se sono andate nei saldi visto che adesso penso siano incominciati ho in mente di andarne a prendere delle altre intanto qua e doppia quindi abbiamo due coppie sto guardando se ci sono entrambe perché non ho neanche verificato e bluette purtroppo io non l'ho visto in altri colori altrimenti lo avrei preso e l'ho pensato che fuoriesca dal dallo stivale o quello con le frange nero oppure l'anfibio quello di gael per dare un po di colore ad un outfit total black e per quello che vi ho detto se dovessi trovarle in altri colori magari guardo nel sito se vengono fatte in altri colori qui non ci sono posso anche ordinarle anche se io normalmente ve l'ho già detto più volte ordino nel sito se un qualcosa che qui non riesco a reperire altrimenti io non amo ordinare su internet non amo per due motivi il primo è che devo sempre aspettare la spedizione che arrivi il prodotto e via dicendo ma il primo motivo assoluto quello lo metterei come secondo il primo motivo che a me fa piacere lasciare i soldi nella mia città perché comunque sia dobbiamo aiutare l'economia per carità in grandi catene come cene m zara non gliene importa niente però io sto molto attenta anche a questo faccio le cizioni come le sto facendo con unica e con altri brand con i quali sto collaborando perché meritano e mi fa piacere altrimenti io acquisto su internet solo se non riesco a trovare qui un prodotto o seppure lo trovo ma con un prezzo troppo alto avevo preso le magliettine quest'anno anziché prendere boxer slip o calze l'anno precedente avevo preso dei calzini ho deciso per la notte di capodanno di prendere cinque maglie se riesco vi lascio la foto qui ne ho prese tre uguali per mio marito e miei due figli e uguale per me e federica quindi abbiamo cenato a casa e abbiamo deciso di indossare questa maglia e ne ho approfittato perché avevo un coupon da scaricare mi sembra arrivando a 60 euro perché le maglie venivano 9,99 quindi ho aggiunto questo e forse sì uno slip che mi serviva perché ho un reggiseno wonder woman che avevo comprato e mi sarebbe piaciuto abbinarli visto che ha l'elastico rosso uno slip semplicissimo rosso quindi avevo preso questo 4 euro e 99 questo e le cinque magliette per arrivare alla cifra e avere un 15 per cento di sconto era un coupon che mi stava scadendo non mi ero mai scaricata all'applicazione di tezenis me la sono scaricata perché avevo dato delle cosine vecchie che poi erano tenute benissimo ma non stavano e quindi ho accumulato dei coupon e ho avuto questi sconti qua poi l'altra cosa che vi mostro sempre a cagliari perché ho comprato veramente pochissimo sono stata in questo negozio che fa vendite anche online infatti li ho voluti provare solo unicamente per questo motivo perché qua nella mia città questo marchio non l'ho visto magari c'è ma non ci ho fatto caso siccome io sono sempre alla ricerca del colore per i capelli e sono sempre alla ricerca del colore perfetto che mi sto avvicinando ma non ho ancora trovato quindi ultimamente sto facendo le ne ovviamente faccio la mia ricrescita per coprire i capelli bianchi con un con dei colori che io ho acquistato in quantità anni fa non si butta niente quindi me li sto facendo e sono sempre tonalità come rame o biondo chiaro rame quindi mi faccio la mia ricrescita e subito lavo i capelli e applico le ne da qui fin su e poi li pettino diciamo l'ultimo momento ho trovato queste ne mi è rimasto solamente una confezione delle ne quello erbalia mi serviva le ne anche perché io faccio il colore due volte al mese di conseguenza ne consumo tantissimo ne ho trovate tre confezioni però la ragazza mi ha detto che si può acquistare online allora erbalia il prezzo normalmente che trovo è 12 euro e 99 qualcosa del genere alla conad lo prendo quando lo trovo in promozione lo avevo acquistato anche su internet a 9 euro e 90 tra una cosa e l'altra mi era venuto 9 euro e 90 questo viene 8 euro e 90 però ci possono essere delle promozioni io momentaneamente ho deciso di prenderlo se mi dovesse piacere anche se dovessi spendere tra la spedizione tutto anche se acquistando mi sembra 50 euro di prodotti la spedizione gratuita quindi se mi dovessi trovare bene con questo colore potrei prendere fino arrivare a 50 euro sono a posto per un po di tempo che non è tantissimo ripeto facendone due al mese io praticamente ne consumerei 24 all'anno comunque all'interno contrariamente a erbalia che all'interno ha il prodottino quindi il balsamo ha i guanti e alla cuffietta questo all'interno mi sono resa conto che non ha niente ha solamente il prodotto da applicare sono 100 grammi di prodotto quindi la confezione è uguale a quella di erbalia però non ha proprio niente non importa io sono piena di cuffiette sono piena di guanti di conseguenza non mi importa se il prodotto dovesse essere valido ho in mente di acquistarlo non so se provarlo di già oppure di fare l'ultimo colore erbalia forse vorrei già provarlo perché se non dovesse piacermi ho la possibilità di correggerlo con l'altro non lo so comunque questo è il prodotto in teoria il colore è questo questo un color rame l'altro invece di erbalia è un rame dorato o biondo rame qualcosa del genere non lo so io sono fiduciosa vi farò sapere ne ho acquistato tre perché in negozio ne avevano tre se vi dovesse interessare come linea la potete trovare quindi anche nello shop online via vicino qua la busta e ci sono tutte le colorazioni per quanto riguarda la tre regali che ho avuto io non li ho ancora sbocciati veli mostro allora il primo è questo qui è della collezione charming la vicino così dovrebbe essere un blush la colorazione è la 02 a me lo sapete piacciono sempre i colori pescati aranciati un po come a te betty betty 82 e non mi ricordo se ornella questo colore lo ha fatto vedere selvaggia bellezza ha fatto vedere tantissime cose ornella di questa collezione però vi dico la verità non mi ricordo il colore questo è il pack a me tra i due pack il verde e questo piace di più il verde però il blush vengono fatti tutti con questo pack qui quindi la persona che me lo ha regalato lo sapeva il colore è stupendo la cialdina è anche molto bella e lo proviamo sono molto burrosi io molte volte questo è il colore io molte volte utilizzo il blush anche per fare il colore di transizione o mettere un leggero ombretto quindi mi piace molto richiamare il blush con l'ombretto quindi questo è il primo prodotto che mi è stato regalato il secondo della stessa collezione a me l'hanno regalato col pack verde e io a mia figlia l'ho acquistato con l'altro pack perché le piaceva molto la palette quindi le ho acquistato quella che in questo pack qui non mi ricordo se tu ornella hai acquistato entrambe mi ricordo che ha acquistato quella che io ho regalato a federica però non mi ricordo se hai anche la verde oppure se la verde l'ho vista da anna magni non me lo ricordo comunque questo è il pack quindi sempre la classica velina non sono la prima che vi fa vedere questa collezione perché già diverse che seguo l'hanno fatta vedere quindi io sarò sono l'ultima la persona sapeva che a mi piaceva tantissimo come pack questo e niente vi mostro i colori questi sono i colori mi piace tantissimo che abbiano messo anche questo verde e sono i colori che io normalmente utilizzo tantissimo ci sono diversi matt perché ne abbiamo sette matt e poi abbiamo cinque scimerini quello che mi piace e l'ho già detto più volte vedo che un qualcosa che ricercate anche voi come anche lisa elisa my style che nella palettina c'è il burro è comunque dei colori scuri quindi qualora uno volesse portarsi in viaggio un'unica palette senza portare 3000 cose portando questa c'è la possibilità di fare il look completo con i colori chiari con i colori scuri anche con dei colori scimerini questa è la palette ora non la swatch intanto l'avete vista in diversi video perché tra un po ho gente in negozio e quindi non ho tempo comunque mi piace tantissimo la proveremo insieme in un get ready with me ha uno specchio grandissimo quindi mi piace veramente tanto questi quindi sono i due della stessa collezione che mi sono stati regalati poi questa persona sapeva che io ero alla ricerca di questa palettina che avevo visto se non ricordo male sempre in un video di anna magni sono andata a ricercarlo ma non sono riuscita a trovarlo o meglio sono riuscita a trovare mentre lei si truccava con la palette ma non riesco a distinguere se la stessa mia si penso di sì allora la 02 era quella che a me piaceva di più come colori perché sono i colori più caldi stavo cercando anche un'altra palettina però quella non si riesce più a reperire forse il dolce d'iva che avevo visto nel video di betty e comunque sono riusciti a reperire questa me l'hanno presa la collezione è questa lost in amalfi non mi ricordo se l'ha fatta vedere anche ornella questa è una collezione vecchia mi attirava veramente tantissimo il pack è meraviglioso dovrebbe essere lo stesso pack del blush che mi ha regalato è la del canale la fashion i colori allora mi piace tantissimo il fatto che la palette è grande io vi ho già detto più volte che mi faccio attrarre parecchio dal pack il pack è stupendo i colori sono i miei colori qui abbiamo tre matt no quattro matt e abbiamo cinque scimerini però anche qui è possibile fare un look completo perché perché abbiamo questo colore scuro quindi per dare definizione profondità poi possiamo fare con questo una transizione o con questo oppure anche con questo qui e poi illuminare l'angolo dell'occhio con questo insomma io la trovo completa mi piace veramente tanto questo colore è un colore tra l'altro molto bello che non so se un verde un fango è proprio bello e comunque contentissima di aver ricevuto queste tre palettine cioè due palettine e un blush penso di avervi fatto vedere tutto sì vi ho fatto vedere tutto quindi adesso vi mostro il mio outfit e poi ci rivediamo così vi faccio vedere nel dettaglio gli accessori che indosso vi mostro in velocità il mio outfit sono al lavoro quindi tra poco gente allora premesso la mia dieta si è interrotta perché sto facendo una cura di antibiotici e di conseguenza non mi vedete dimagrita anche se non avevo dimagrito tantissimo perché avevo perso solamente tre chili non li ho recuperati tutti però comunque sia non sono scesa questa è la giacca che vi ho mostrato l'acquisto di oltre è una giacca blu rimane elasticizzata quindi molto comoda e confortevole ovviamente si chiude sono io che adesso non la sto chiudendo per fortuna avevo preso la taglia più grande la magliettina che ho sotto e la maglietta termica di decathlon che noi utilizziamo normalmente per andare in moto però oggi l'ho voluta mettere perché qua c'è un po di freschetto e quindi insomma a me piace mettere anche questa maglia strammatizzarla con una giacca più elegante i jeans sono jeans di stradivarius mi piacciono tantissimo l'unica pecca di questi jeans sono gli strappi non li amo più tanto però purtroppo la vestibilità di questo jeans a me piace tantissimo e comodissimo e quindi l'ho voluto prendere lo stesso ce l'ho già da parecchi mesi forse l'avevo acquistato all'inizio dell'estate poi sotto ho delle calze in caldo cotone sempre blu e poi ho questi stivaletti in pelle non mi ricordo il marchio ce l'ho forse da dieci anni mi piacciono tantissimo e non voglio gettarli sono comunque all'interno in ordine proprio sono perfetti la punta siccome io tendo a inciampare spesso l'ho un po rovinata però mi piacciono tantissimo forse sono delle scarpe blu le mie preferite basta gli accessori ve li mostro adesso da vicino ovviamente la catenina ve l'ho già fatta vedere quella di unica accessori il cappottino di oltre a me piace portarlo soprattutto in maniera non elegante ma portato con i con i jeans è caldo poi comunque sotto la maglia termica o la giacca quindi non ho freddo o la borsa che la mia solita borsa di michael kors che voi ormai conoscete lo sapete ho fatto una selezione di borse ho deciso di tenere le borse in pelle di acquistarle in pelle a parte qualche eccezione se proprio mi innamoro della borsa ho solo due borse blu una in tela e poi questa qua quindi questo è il mio outfit completo non ho tempo per farvelo nel dettaglio vi lascio agli accessori rieccomi qua vi mostro gli accessori che indosso ho le mani un po sporche non ho portato le salviettine allora la collana di unica accessori questa se non ricordo male si chiama collana family mi ha conquistato tantissimo il tipo di catena comunque ve la mostro nel dettaglio mentre vi parlo a questi tre cuoricini che ricordano il bracciale battito la casetta e la stellina quindi dei simboli che a me piacciono tantissimo poi ho la collana di rebecca che non mettevo da tantissimo con la mia iniziale piccola come potete vedere una piccola iniziale che profilata dorata e a questi svaroschi grandi la catena ricorda le catene anche quelle di pomellato forse con le sferette non la mettevo veramente da tanto l'anello e l'anello nodo e ho poi questi bracciali questo con l'orsetto col teddy questo battito quest'altro che mi aveva omaggiato in un altro ordine e questo di maida gioielli poi io in quest'altro lato qui i bracciali che tengo su fissi e oggi ho voluto cambiare la scocca all'orologio gli ho messo la scocca dorata con la maglia milano dorata per quanto riguarda i braccialetti sono quelli che ultimamente mi vedete su fissi nel braccio sinistro normalmente sto portando questi qui qualora siete interessati a vederne uno nel dettaglio scrivetemelo pure sotto nei commenti che ve lo farò vedere tranquillamente non mi sono dimenticata di una ragazza che mi ha chiesto di mostrare la mia collezione di bracciali a parte quelli di pandora adesso non mi ricordo il nome però appena riesco giro il video non mi dimentico di nessuna mi sono appuntata tutto appena riesco accontento tutte lo sapete per quanto riguarda gli orecchini qua a sinistra o gli orecchini che mi ha regalato sempre alice nel pacco precedente sono questi mi piacciono veramente tanto hanno dei zirconi penso che questi li possiate trovare reperire ancora fa diversi set che si possono acquistare ce ne sono tanti uno più bello dell'altro e niente quindi questi sono gli orecchini qua o i miei cerchietti in oro giallo distroili con la luna sempre in oro giallo la collanina che mi hanno regalato i miei figli o meglio la collana d'oro di pandora l'avevo di già questa è la piastrina personalizzata di pandora e basta vi ho mostrato tutto le fedi l'anello ti amo e lo viù che ho spostato perché mi devo ricordare di prendere una medicina e basta il video termina qua spero di non avervi annoiato con questo video un po lungo però ci tenevo a mostrarvi tutte queste cosine per poterle utilizzare niente noi ci vediamo prestissimo con un mio nuovo video ciao a tutte